Musica Belli ragazzi sono vero e eccoci qua in questo nuovo video molto veloce dato che me l'avete chiesto poco fa adesso vi faccio vedere come fare questo bug diciamo molto veloce per mettervi Nuketown in partita personalizzata avete bisogno di un vostro amico dovete partecipare da lui appunto come vedete sono nel suo party e gli dovete fare cercare una partita pubblica una volta che avete trovato Nuketown che è la mappa appunto che vi serve vi dite appunto di uscire con il party e poi fatto ciò voi uscirete da soli come vedete appunto nel video adesso ritorniamo nel multigiocatore e praticamente dobbiamo lasciare la pallina cioè dobbiamo lasciare il puntatore sopra partite personalizzate però non ci dobbiamo cliccare a questo punto andiamo nel party e partecipiamo dal nostro amico oppure vi fate invitare una volta che sarete entrati vedrete che tipo il simbolo delle partite personalizzate sarà rimasto lì a questo punto se noi proviamo ad entrare vediamo che dopo 2-3 secondi tipo ci butta fuori ci fa vedere che comunque siamo nella mappa con Nuketown in partita personalizzata però ci butta fuori per fare in modo che vi lasci dentro la partita praticamente dovete entrare dentro e dovete subito dire al vostro amico di uscire se riuscite a farlo nel modo corretto vi lascerà da soli dentro la lobby e voi potrete modificare le impostazioni oppure se non ve le fa modificare fate come nel mio caso che praticamente ho tipo avviato la partita cliccando di sotto solo leader del party anche se c'era solamente io non so perché comunque se vi da l'host del party prima ovviamente gli modificate le impostazioni ovviamente se vi si bugga come nel mio caso andate di sotto dove c'è scritto solo leader del party avviate la partita e vi darà direttamente l'host come nel mio caso adesso se volete potete direttamente terminare la partita e così vi farà cambiare le impostazioni come avete visto precedentemente nella live e a questo punto comunque già i vostri amici possono partecipare dentro la lobby una volta che la partita sarà avviata come vi ho detto prima se volete terminate la partita e cambiate le impostazioni oppure se già vi ha dato l'host prima le cambiate ovviamente al primo raga per fare questo history non vi basterà fare altro che levare tutte le teste e i manichini dentro la mappa e dopo un po' inizierà a parlare un russo e si creerà appunto dopo un minutino un bunker al centro della mappa e partire il razzo poi si creerà tipo un buco di fortnite preciso nel cielo e inizierà a farvi spawnare zombie che sono questi manichini killer al massimo a questo punto raga io vi saluto se volete passate anche dalla live che ho fatto guardate un po' cosa abbiamo fatto in live e niente come sempre vi ricordo di iscrivervi lasciare un bel like bella occupiamo alfa occupiamo B occupiamo B occupiamo B però abbiate la crema solare prendiamo A prendiamo A occupiamo A occupiamo occupiamo Grazie a tutti Oh forse devo fare con la pistola Aspetta Uccidetemi Uccidetemi Hey Uccidetemi Uccidetemi